Questa che si inaugura oggi a Santa Cristina è la quarta terrazza panoramica realizzata finora sul territorio del patrimonio mondiale, inaugurate due in provincia di Bolzano e due in provincia di Trento, a cui se ne aggiungeranno presto altre tre in provincia di Belluno in corso di ultimazione. Perché questo progetto? Per comunicare sia a chi frequenta le Dolomiti ma anche a chi le abita che esiste una unità nella diversità. Queste terrazze panoramiche sono collegate evidentemente in luoghi diversi, anche con delle storie diverse da raccontare dal punto di vista di quello che si vede, della geologia, del paesaggio, ma accomunate dall'essere parte di quell'unico patrimonio mondiale che sono le Dolomiti Unesco. Quindi uno stesso progetto costruttivo uguale in tutte le Dolomiti che crea un po' alla volta una rete di punti di osservazione privilegiati che ci fanno rendere conto sempre di più dell'eccezionalità di questi luoghi e anche appunto del fatto che condividiamo un unico patrimonio al di là dei confini provinciali e regionali. I simboli contano e quindi qui possiamo toccare con mano di essere in un punto di una rete e magari anche avere la voglia di visitare gli altri. Grazie! 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 Grazie!